Sulla nostra regione in questo fine settimana avremo ancora tempo piuttosto instabile a causa di una depressione sulla Francia che fa fluire correnti da sud ovest piuttosto umide. Nella giornata di sabato avremo al mattino piogge abbondanti anche intense, specie durante le primissime ore del mattino sulla costa e sulle zone orientali. In giornata attenuazione delle piogge che diventeranno più deboli soprattutto sulle zone occidentali, saranno ancora possibili invece dei rovesci sulla fascia orientale, temperature stazionari e sui valori di questi ultimi giorni. Per quanto riguarda domenica ancora qui nella notte e nel primo giorno del mattino un nuovo fronte porterà ancora piogge abbondanti su tutta la fascia orientale. In giornata è probabile variabilità, quindi anche qualche schiarita, soprattutto in montagna e sulle zone più occidentali, ma nel pomeriggio potrebbero comunque esserci dei rovesci sparsi sul territorio. Le temperature saranno in lieve calo con valori un po' al di sotto della media, massimo intorno ai 18-20 gradi su pianura e costa. Anche l'inizio della prossima settimana continua a essere caratterizzato dall'instabilità, soprattutto lunedì, con rovesci sparsi e piogge anche abbondanti, soprattutto alla sera, un po' meglio martedì, con variabilità e tempo che andrà poi migliorando con l'arrivo di correnti più secche settentrionali. Temperature caleranno ancora un pochino, quindi la prossima settimana all'inizio sarà piuttosto fresco. Buon fine settimana a tutti!